Vi racconto un piccolo episodio che mi è accaduto questa settimana. Pochi giorni fa ho chiamato la mia compagnia di assicurazione per rinnovare la pollizza dello scooter che ho. E in quella stessa telefonata ho chiesto alla signorina se poteva farmi un preventivo per vedere la convenienza o vedere quanto mi sarebbe costato intestare a me l'assicurazione della macchina dei miei genitori che attualmente guido. Vi riferisco alla conversazione. Eh signora, lei partirebbe dalla quattordicesima classe? Eh sì, lo so. Vive a Roma? Sì. Ah! Vive con qualcuno? Eh no, cioè un gatto ma non credo che sia rilevante. Eh allora non può usufruire della legge Bersani? Eh no, è vero, purtroppo no. Credo che il premio le verrà un po' alto, ma lei è proprio sicura? Eh guardi, proprio sicura no. Però mai inizio, mai arriverò a scalare la vetta dell'irraggiungibile prima classe. Così la signorina tra un sospiro e l'altro, mossa da compassione perché il premio era così alto che tentava di togliere tutte le voci possibili, quelle in aggiunta, alla fine riesce a formulare un preventivo finale. Non vi dico il prezzo, se volete potete contribuire. Scherzo ovviamente. Scherzo, scherzo. Così ci ho riflettuto un po', no? Dopo la telefonata. A pensarci bene, questo fatto della classe di merito mi sembra un po' un meccanismo abbastanza ingiusto. Cioè per iniziare bisogna per forza partire dalla quattordicesima classe, che è quella che ha il premio più alto. E poi per migliorare, passando di categoria, quindi scendendo di classe, devi dimostrare di meritartelo. Cioè anni di sudore e di soldi che avresti potuto spendere per altre cose che devi destinare alla tua compagnia di assicurazione, perché per lei non sei ancora abbastanza meritevole. Una volta in prima classe invece ti senti un pochino quasi un signore, cioè i tuoi avanzi li puoi spendere per i tuoi viaggi, per le tue vacanze. Ma che c'entra col sermone di oggi? Spesso viviamo il nostro rapporto con Dio come se fossimo sempre in quattordicesima classe. Ci sembra di dover faticare tanto per arrivare ad una retta che ci sembra lontana. Ci dimentichiamo così facilmente che qualcuno per noi ha già guadagnato il diritto della prima classe e non è Bersani. E noi dobbiamo solo sottoscrivere il contratto godendo di tutti quei diritti che Cristo ha già acquistato per noi. E puoi investire le risorse che abbiamo nelle cose che hanno più valore. Perciò, fermiamoci un secondo, chiudete gli occhi e aprite il libretto della vostra vita. In che classe sentite di essere con il Signore questa mattina? Prima di addentrarci però nei capitoli di oggi, facciamo un attimo un passo indietro per dare un breve sguardo al libro di Deuteronomio, perché questo ci consente di contestualizzare e capire bene i capitoli che vedremo oggi. Prima di tutto, Deuteronomio in ebraico significa queste sono le parole. Cioè, come leggiamo proprio dal capitolo 1 in Deuteronomio, queste sono le parole che l'Eterno disse tramite Mosè al suo popolo quando era accampato ancora nelle pianure di Moab, al di qua del Giordano, prima di entrare nella terra promessa. Erano passati 40 anni da quando il popolo era uscito dall'Egitto e quel viaggio che sarebbe dovuto durare solo 11 giorni a causa della loro disobbedienza durò 40 lunghi anni. Ora però quella generazione era lì. Potevano vedere la terra dove sarebbero entrati. E era quella generazione che nacque in Egitto ma che crebbe nel deserto e che vide la prima generazione che aveva ascoltato per la prima volta le stesse identiche parole fallire e morire lungo la via. Quindi dietro di loro c'era schiavitù e deserto. Davanti a loro c'era la terra promessa da Dio ai loro padri. Un luogo di libertà permanente dopo i 400 lunghi e amari anni di prigionia sotto l'Egitto. Una terra in cui Dio stesso sarebbe stato il loro unico re e nessun altro padrone avrebbe dominato su di loro. Un luogo di riposo, di abbondanza e di gioia profonda. A condizione però che avessero mantenuto vivo quel rapporto d'amore con il Dio che le aveva portati fino a lì. E qui forse in alcuni di voi potrebbe nascere un'obiezione. Cioè se Dio le amava veramente perché quindi ha posto una condizione? Che è un po' la stessa domanda che ci facciamo noi oggi. Se Dio ci ama così tanto e veramente perché pone delle condizioni? Beh, essendo nella settimana, stiamo per entrare nella settimana di San Valentino, allora provo a farvi un esempio in questo modo. Immaginiamo una coppia che si sposi. La prima cosa che fa, con buona probabilità, è preparare la propria casa per andare a vivere insieme, per godere l'uno dell'altro in modo indisturbato e costruire un nido per la loro intimità, dove raccogliere le esperienze quotidiane che accumulano e condividono. Allo stesso modo doveva essere la terra promessa per Israele un luogo dove godere di questo rapporto con Dio senza altri padroni. E come una coppia ha bisogno di un legame di fiducia, di promesse reciproche e di fedeltà quotidiane per mantenere vivo, sano e far crescere il proprio rapporto, così Dio promise se stesso al popolo e chiese al popolo di promettere se stesso a lui. Perciò come nella coppia, la condizione della fedeltà non la toglie al vero amore, anzi lo rende solido, allo stesso modo le parole che Dio stava dicendo al popolo non la toglievano al vero amore, anzi mettevano degli argini per proteggerlo e renderlo vivo. Quindi questo ci porta a fare una prima piccola riflessione per noi stessi e per le nostre vite. Cioè se quando pensiamo alla parola di Dio ci troviamo a pensare come qualcosa che sia soltanto restrittiva e privativa nella nostra vita, forse questo ci fa capire che stiamo vivendo un rapporto con Dio che non è pieno d'amore, di passione e di verità, forse è un pochino più legnoso e religioso. Ma se quando pensiamo alla parola di Dio ne vediamo anche tutta la potenza costruttiva e protettiva nelle nostre vite allora significa che stiamo vivendo un rapporto d'amore con quel Dio che ci fa battere il cuore. Quindi tutto questo fa da cornice ai capitoli che stiamo per vedere. Abbiamo iniziato questa serie proprio con un desiderio di riconsacrarci al Signore come fu per quella generazione che ora guardava alla terra. Forse sei qui oggi e hai bisogno di un nuovo inizio. Forse hai bisogno di mettere ordine nella tua vita e di tornare dal Signore, da vie lontane. Forse il deserto ti ha stancato. O semplicemente sei così riconoscente per quello che Dio sta facendo nella tua vita che la tua domanda è, Signore, cosa posso fare per te? Il mio incoraggiamento è, fai tu e le parole che Dio ti dirà oggi. Appropriati delle sue promesse per ricominciare. Ricevi il suo perdono per guarire e segui le sue istruzioni per imparare a servire lui e gli altri. Bene, ora siamo pronti. Pronti a vedere i brani di oggi che copriremo, un po' come abbiamo visto nelle letture, dalla seconda metà del capitolo 14 al capitolo 16. E in sequenza parlano delle decime, dell'anno della remissione dei debiti e della libertà, dalla schiavitù e delle tre festività nazionali che Israele doveva osservare. Tutto il libro di Deuteronomio però non segue un ordine né cronologico né di importanza. Infatti questi capitoli sono raggruppati per argomenti. Perciò noi li vedremo non in questo ordine, ma secondo lo spirito che abbiamo appena descritto. Perciò il messaggio di oggi ha lo scopo di aiutarci a capire che quando viviamo nella grazia, viviamo nella gioia e abbiamo un desiderio di dare e di servire. Ecco quindi che iniziamo con il capitolo 16, che parla di queste tre festività nazionali che il popolo doveva osservare. Le abbiamo lette prima, la Pasqua, la festa delle settimane e delle capanne. Ognuna di queste doveva avere due condizioni. Essere celebrata nel luogo che Dio aveva scelto a Gerusalemme, che sarebbe poi diventato il Tempio, e ogni maschio doveva presentarsi. Perché? Perché poi sarebbe stato lui a modellare lo stesso atteggiamento all'interno della propria famiglia. Ma qual era il significato di queste feste? Perché Dio voleva che Israele si fermasse, che ogni famiglia, da ogni luogo in cui abitava, si recasse al Tempio per celebrare. Ecco, leggiamo insieme proprio questi capitoli. Celebrerai la Pasqua al Signore tuo Dio, sacrificando vittime delle tue greggi e dei tuoi armenti, nel luogo che il Signore avrà scelto come dimora del suo nome. Non mangerai con queste offerte pane lievitato. Per sette giorni le mangerai con pane azimo, pane d'afflizione, poiché uscisti in fretta dal paese d'Egitto, affinché per tutta la vita ti ricordi del giorno che uscisti dal paese d'Egitto. Poi celebrerai la festa delle settimane, in onore del Signore tuo Dio, mediante offerte volontarie, che presenterai nella misura delle benedizioni che avrai ricevute dal Signore tuo Dio. Ti rallegrerai in presenza del Signore tuo Dio, nel luogo che il Signore, tuo Dio, avrà scelto come dimora del suo nome. Ti ricorderai che fosti schiavo in Egitto e osserverai queste leggi e le metterai in pratica. Infine, celebrerai la festa delle capanne per sette giorni, quando avrai raccolto il prodotto della tua aia e del tuo tocchio. Ti rallegrerai in questa tua festa nel luogo che il Signore avrà scelto, poiché il Signore, il tuo Dio, ti benedirà in tutta la tua raccolta e in tutta l'opera delle tue mani e ti darai interamente alla gioia. Immolerai la Pasqua, celebrerai la festa delle settimane, celebrerai le capanne, affinché ti ricordi del giorno in cui uscisti dal paese d'Egitto e che io ti feci dimorare in tende. L'abbiamo visto molto bene domenica scorsa con Andrea, ma lo rivediamo anche oggi. La ragione per cui tutto il popolo doveva fermarsi era per ricordare da quale schiavitù, da quale amarezza e prigionia l'Eterno lo aveva liberato. Con quella liberazione nacque la nazione di Israele e Dio gli diede un'identità. Tu sei una nazione, tu sei il mio popolo. E nel ricordare questo, i loro cuori dovevano riempirsi di gioia, essere rinfrescati da ogni fatica accumulata fino a quel momento per meditare sulle meraviglie che Dio aveva fatto per loro. Perciò, come abbiamo letto, la parola chiave di queste festività era la gioia. L'Eterno aveva fatto cose grandi per loro e per questo dovevano gioire. Durante la Pasqua l'agnello doveva essere sacrificato per ricordare che quel sangue li fece scampare la notte che uscirono dall'Egitto. Durante la festa delle settimane dovevano offrire le primizie dei loro raccolti per ricordare che Dio aveva offerto loro la legge quando erano nel deserto. Durante la festa delle capanne dovevano ricordare che avevano vissuto in tende per tutto quel periodo ma che Dio aveva sempre provveduto al loro nutrimento e al loro sostentamento. Perciò, quello era un tempo di gioia. Ma cosa significano per noi queste feste? Cioè che rilevanza hanno oggi per la nostra vita? Soffermiamoci soprattutto sulla Pasqua e torniamo per un momento all'agnello che sacrificarono nella loro prima Pasqua la sera che uscirono dall'Egitto. Quella notte il sangue dell'agnello fu messo sull'architrave e sugli stipidi della porta di ogni casa israelita, così, sull'architrave e sugli stipidi. Ma per spalmarlo, per metterlo sull'architrave e sugli stipidi dovevano formare questo. La croce. Il gesto di mettere il sangue sull'architrave e poi sullo stipide. Niente prefigurava, nient'altro prefigurava che una croce. L'agnello di quella prima Pasqua già guardava all'agnello dell'ultima Pasqua. Cristo Gesù, immolato sulla croce per noi, per liberarci dalla schiavitù del peccato. Una volta e per sempre. Nell'esortare i corinzi, Paolo scrisse loro dicendo poiché anche la nostra Pasqua, Cristo, è stata immolata. E questo ci porta al nostro primo punto. Cristo è la nostra Pasqua. Il giudizio sul nostro peccato è caduto su Cristo. Cristo l'ha fatto suo, portandolo sul suo corpo e andando a morire fino alla morte e alla morte di croce. È festa. È Pasqua. Cioè è avvenuto il passaggio per tutti quelli che hanno ricevuto per fede il sangue di Cristo perché eravamo schiavi del peccato ma siamo stati liberati. E attraverso di Lui, come quella porta che era delle case degli israeliti a quel tempo, siamo passati dalla morte alla vita. L'Apostolo Pietro scriveva dicendo non con oro o con argento siete stati riscattati dal vostro vano modo di vivere ma con il prezioso sangue di Cristo. La grande differenza tra l'argento e l'oro e il sangue di Cristo è che i primi hanno un alto valore ma limitato. Il secondo non ha prezzo. Il suo valore è inestimabile e capace di coprire anche il prezzo più alto che il nostro peccato domanda. Questo è il nuovo patto. La croce ha compiuto tutto. Ogni cosa per noi. La mia domanda è per te. È Pasqua anche per te? Sei anche tu entrato nel nuovo patto indissolubile perché firmato dal sangue di Cristo in cui hai ricevuto Cristo, il suo perdono e la sua salvezza e Lui ha ricevuto te, i tuoi peccati e tutta la tua vita. Il salmista scrive dicendo «Cosa darà l'uomo per riscatto della sua anima?» Niente di quello che potremmo offrire mai basterà perché la tua e la mia anima valgono molto di più. Hai solo una scelta accettare Cristo e farlo la tua Pasqua. Ma se l'hai già fatto allora la mia domanda per te è stai vivendo nella gioia? Sto vivendo nella gioia? Se la tua risposta è no o ni forse anche tu, anche io come il popolo di Israele abbiamo bisogno di fermarci e di tornare all'Eterno per ricordare e celebrare ciò che Lui ha fatto per noi la libertà che ci ha dato che ha acquistato a caro prezzo per noi. Fermatevi dice il Signore nel Salmo 86 e riconoscete che io sono Dio. Fermiamoci e torniamo alla croce che ci parla ancora oggi come il primo momento in cui ci siamo andati di amore, di grazia, di perdono di misericordia, di potenza che ci dice, che ci grida a gran voce chi siamo figli di Dio. Ma c'è anche un'altra ricorrenza di cui il Signore parla in questi capitoli è quella del capitolo 15 che parla che ogni sette anni doveva esserci l'anno della remissione di debiti in altre traduzioni questo è tradotto come l'anno della libertà dai debiti e dalla schiavitù se ci si era venduti schiavi a causa della propria insolvenza. Leggiamo insieme. Alla fine di ogni settegno celebrerete l'anno di remissione. Ecco la regola di questa remissione. Ogni creditore sospenderà il suo diritto relativo al prestito fatto al suo prossimo. Non esigerà il pagamento dal suo prossimo o dal fratello quando si sarà proclamato l'anno di remissione in onore del Signore. Se un tuo fratello ebreo o una sorella ebrea si vende a te ti servirà sei anni ma il settimo lo manderai via da te libero. Quando lo manderai via da te libero non lo rimanderai a mani vuote. Lo fornirai generosamente di doni presi dal tuo greggio dalla tua aia e dal tuo torchio. Lo farai partecipe delle benedizioni che il Signore, il tuo Dio ti avrà elargito. Significava che se qualcuno aveva dato in prestito durante quell'anno non poteva pretendere la restituzione di quel prestito e che quindi il debitore era sollevato per un anno da questo pagamento. In quello stesso anno ogni schiavo doveva essere liberato e lasciato andare via ma non a mani vuote come abbiamo letto con dei doni per dargli qualcosa con cui ricominciare a vivere. In questo modo si permetteva ai più poveri di avere momenti di sollievo per riprendersi e per ricominciare per ripartire senza inabissarsi in una spirale di povertà che li portasse come vediamo purtroppo oggi alla disperazione. Ma era anche un modo per far sì che i cuori dei più ricchi non si attaccassero alle proprie ricchezze sollecitandoli a dare a chi chiedesse loro in prestito anche se vedevano l'avvicinarsi del settimo anno. Cosa significa tutto questo per me e per te? Io e te abbiamo il privilegio di vivere costantemente nell'anno della libertà perché la potenza della croce non ha operato nella nostra vita solo al momento iniziale in cui siamo arrivati a Cristo per la nostra salvezza ma opera in noi tutti i giorni. Il sangue di Cristo non perde mai la sua potenza. Ogni volta che pecchiamo e che con fede e cuore pentito torniamo alla croce e diamo il nostro debito condonato pagato perdonato. L'opera della croce è così completa e meravigliosa che possiamo vivere senza il carico del nostro peccato perché è già stato pagato. Perciò l'anno della libertà è la misericordia di Dio che opera nella nostra vita che costantemente ci rialza e viene a liberarci quando rimaniamo intrappolati nella rete del nostro peccato o nelle cose risolte della nostra vita. Ma la condizione per sperimentare tutto questo è riconoscere il proprio debito e accettare e credere che l'Eterno ci dice va sei libero sei libera non solo ma come lo schiavo non veniva lasciato andare a mani vuote così Cristo non ci ha solo salvato ha riempito le nostre vite di benedizioni e ci ha dato il dono dello Spirito Santo per il quale gridiamo Abba Papà Padre che ci brama ci desidera fino alla gelosia e che ogni giorno con noi insieme a noi modella e smussa le nostre vite perciò questo ci porta al nostro secondo punto Cristo ci ha resi veramente liberi Cristo ci ha resi veramente liberi l'Apostolo Paolo scrivendo ai Galati dice Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi stiate dunque saldi e non vi lasciate porre di nuovo sotto il gioco della schiavitù qual è la situazione che sta gravando su di te in quale laccio sei rimasto intrappolato solo la croce può liberarti torna lì e riappropriati della libertà che Cristo ha acquistato con il suo sangue per te perché tu fosti libero io fossi libera e vivere nella libertà poi riparti da vivo e chiedi allo Spirito di Dio di aiutarti a camminare l'anno della libertà ci parla della potenza del perdono nella nostra vita il perdono che riceviamo da Dio ma anche quello che guarisce le nostre relazioni con gli altri ognuno di noi inevitabilmente qui io compresa siamo in una posizione debitoria verso qualcuno che abbiamo ferito o non amato e creditoria verso qualcuno o più di qualcuno che ci ha feriti oggi chi hai bisogno di liberare te stesso o qualcuno che ti ha profondamente umiliato lascialo andare lasciala andare la libertà che tu darai all'altro di andare via sarà quella con cui Dio riempirà il tuo cuore Dio si prenderà cura di te permetti a Dio di avvicinarsi alle tue sofferenze e di guarirle finché sarai legata a quel laccio sarai molto più vicino alle tue ferite molto più lontano da Dio che le può guarire chiedi la forza allo Spirito Santo di perdonare e lasciare andare e vedrai il tuo cuore di morare nella potenza della croce nella dolcezza della sua presenza la sua voce ti consolerà le sue sofferenze ti conforteranno perché sai e saprai che nessuno più di lui potrà capirti e così in questo modo la tua e la mia intimità con Dio cresceranno oppure la domanda è un'altra a chi hai bisogno di chiedere perdono chi devi aiutare a lasciarti andare libero per ciò che hai fatto e liberarlo a sua volta Corrie Ten Boom in un suo libro dice questo il perdono è ciò che riesce ad aprire la porta del risentimento e le manette dell'odio il perdono ci rende liberi il perdono ci rende liberi e questa favolosa grazia non ci lascia indifferenti ma ci modella e ci cambia d'immagine di colui che ci ama e mette in noi un genuino desiderio di dare e di servire più viviamo nella consapevolezza della grazia più avremo desiderio di dare condividere e servire leggiamo perciò l'ultimo passo del del Semmone di oggi avrete cura di prelevare la decima da tutto quello che produrrà la tua semenza da quello che ti frutterà il campo ogni anno e i primi parti dei tuoi armenti e delle tue greggie affinché tu impari a temere sempre il Signore il tuo Dio e li mangerai in presenza del Signore il tuo Dio e ti rallegrerai con tu con la tua famiglia alla fine di ogni triennio metterai da parte tutte le decime delle tue entrate di quell'anno e le depositerai dentro le tue città il levita che non ha parte né eredità con te lo straniero l'orfano e la vedova che abitano nelle tue città verranno mangeranno e si sazieranno affinché il Signore il tuo Dio ti benedica in ogni opera a cui porrai mano ieri come oggi la decima è il modo in cui dichiariamo che abbiamo così tanto ricevuto che vogliamo dare dare ciò che abbiamo riconoscendo che proviene da Dio riconoscendo che Lui ha l'autorità sulla nostra vita quindi anche su quello che facciamo e possediamo come un marito e una moglie hanno un diritto privilegiato l'uno sulla vita dell'altra che nessun altro fuori di loro può vantare dare la decima è il modo in cui ricordiamo a noi stessi a chi apparteniamo e per cosa viviamo per amare Dio e servire il prossimo e come abbiamo visto allora serviva anche per costituire ogni tre anni una sorta di riserva per il povero altrettanto oggi quando diamo ciò che abbiamo quando diamo parte delle nostre entrate quando andiamo alla nostra decima investiamo o stiamo mettendo da parte risorse che raggiungeranno i più bisognosi e i non raggiunti con la speranza del Vangelo in altre parole una delle cose più preziose che possiamo imparare dal dare dal dare la decima è che noi non siamo qui soltanto per noi stessi che la nostra salvezza non inizia e finisce con noi ma inizia con noi e si intreccia con la vita delle persone attorno a noi è uno dei modi con cui Dio ci dà la possibilità di partecipare alla missione che abbiamo in questo mondo e alla sua missione nel mondo ma come per tutte le altre cose scritte nella parola di Dio dipenderà solo da noi il seguirlo o no perché Cristo non ha mai fatto proseliti solo discepoli e la condizione del discepolo è la volontà colui che comprende la benedizione dell'Eterno dietro le cose che osserva e che ubbidisce perciò ieri come oggi il Signore chiede il nostro meglio e non il nostro scarto e questo ci porta all'ultimo punto del sermone di oggi che Cristo ci ha dato generosamente perché noi dessimo generosamente Cristo ci ha dato generosamente perché noi dessimo generosamente e questo può essere solo il frutto di un vero rapporto con Dio solo un cuore che riceve sa quanto trabocchi la propria coppa per le benedizioni dell'Eterno e solo quel cuore sarà messo nelle condizioni di voler e poter dare ad altri perciò dove il Signore ti sta chiamando a dare in quali modi e posso chiamare Michal intanto a venire perché non la trovo in quali modi dove ti sta incoraggiando a riconoscere quanto ha già fatto con quello che gli hai già dato un giorno saremo in cielo e il Signore ci dirà ehi lo vedi quello lo vedi l'altra lei è stata frutto di un'evangelizzazione a cui tu hai contribuito quando hai deciso di voler sostenere quel missionario con le poche risorse che avevi lui è riuscito a raggiungere posti dell'Italia in cui nessuno era ancora andato quando hai dato quei pochi centesimi che potevi dare a me io li ho moltiplicati ho fatto sorgere chiese in un'Italia che hai imparato a dare e non solo a ricevere non so tu ma io voglio che la nostra Italia non sia il fanalino di coda che non prenda senza dare ma che vinca la corruzione dando generosamente perché così abbiamo ricevuto perciò oggi quali di questi punti hai bisogno di fare tuoi è Cristo la tua Pasqua sai che Cristo ti ha reso veramente libero e capace di dare generosamente con quali cose sei entrato e con quali verità vuoi uscire oggi dipenderà solo da te e da me se decideremo di essere trasformati dalle cose che ascoltiamo perciò chiamiamo i nostri capi e vorrei solo pregare un momento grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti